Se riscontrate problemi riguardo a installare così un'applicazione sul vostro computer quindi in questo caso vi dice che vi serve il permesso per installare questa applicazione quindi in questo caso ti può uscire questo errore qua quindi ti ha bloccata così l'installazione quindi andiamo direttamente su modifica criteri di gruppo vai direttamente su modelli amministrativi, componenti di Windows scendiamo fino a giù fino a trovare così la cartella Windows Installer scendiamo fino a giù fino a trovare così disabilita Windows Installer ci clicchiamo sopra se è attivo vuol dire che ti esce quell'errore quindi non hai i permessi per installare quell'applicazione attraverso questa opzione attivata tu metti non configurata quindi fai ok e per essere più sicuro riavvia il tuo sistema e prova a vedere se puoi installare quell'applicazione grazie anche a questo criterio che abbiamo modificato quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao